In occasione della riunione del direttivo regionale del nuovo centrodestra sono stati illustrati gli emendamenti per l'Abruzzo presentati alla legge di stabilità e di bilancio del governo Renzi. A presentare i contenuti delle proposte per l'Abruzzo è stato l'onorevole Paolo Tancredi, relatore della legge di stabilità presso la Camera dei Deputati. Le principali proposte presentate sono quelle relative al lavoro, alla famiglia e alle piccole e medie imprese. Abbiamo presentato diversi emendamenti sulle nostre specificità, ne accenno qualcuni generali a livello nazionale, l'aumento della franchigia sull'IRAP per le piccole e medie imprese, in aggiunta alla ottima misura in legge di stabilità della detrazione del costo del lavoro sull'IRAP. Abbiamo presentato emendamenti che tagliano quell'aumento di tassazione sui fondi pensione, che secondo noi sono un presidio importante anche per la sicurezza. In questo momento in cui le pensioni normali non danno una certezza per il futuro, a chi si è voluto costruire una previdenza integrativa oggi è ingiusto tassarla. Così come abbiamo fatto emendamenti a favore della famiglia, che con quel bonus bebe cerchiamo anche di dare un'integrazione alle famiglie numerose, oltre al bonus degli 80 euro di detrazione dell'IRPEF. E poi abbiamo fatto emendamenti che sono più specificatamente abruzzesi, come l'emendamento per a favore dell'asta fluviale del fiume Pescara sulle bonifiche, sul porto di Pescara, 20 milioni di euro sull'Ara Pescarese, più i 5 milioni di euro per la bonifica invece della discarica la torre, che è un nostro emendamento, così come abbiamo fatto emendamenti di carattere ordinamentale sul terremoto a favore dei comuni dell'area del cratere, a favore anche della creazione di strutture di missione, sulla possibilità che i comuni si occupino anche a scavalco della gestione delle macerie, così come abbiamo fatto anche un emendamento che secondo noi a favore dell'Abruzzo c'è la possibilità per la regione Abruzzo e per gli enti locali di incassare le royalties anche delle attività estrative di idrocarburi in mare.